Il titolo di prima per Robinho, buono l'inserimento del basiliano, Maxens va in copertura, c'è Ibra in mezzo, Robinho uno contro uno, le finte di Robinho, palla sul sinistro, ancora su destra Robinho, sul fondo, che giocata di Digno, non di Digno. Robinho per Gattuso che prova stavolta, e con il sinistro la palla fatta sopra la traversa, Ibraimovic trovato da un pallone lungo, arriva Boateng, cerca il destro, buono. Gattuso, Anglosini, ancora Gattuso, cerca l'apertura per Seedorf. Buono il controllo di Seedorf, uno contro uno, Seedorf, rientra sul destro, prova subito la conclusione, non male se considerate che è entrato a freddo, e che è freddo, Duoni tranquillo. Adriano non riesce a darla a Burriello, subentra per un po' in adesso, grande occasione per la Roma, la mezz'ora, la migliore costruita dalla Roma. Corridoio per Ibra, posizione regolare, Ibra con Doni che resta in mezzo, Ibra, Doni, gli chiude lo specchio, arriva sulla palla. E adesso Menese invece accelera, solito raddoppio, saltato questa volta, va via con una grande giocata Menese, poi fuori, destro tentato da Simpisio. De Rossi, Scodella per Burriello, posizione regolare, Burriello, Nesta Simbola, riesce a fermarlo con un muizzo. Vole Ibrahimović, De Rossi, Juan, Foskangerato, era un precario equilibrio, controllo di Seda. Uno contro uno di Seda, fuori il destro, la prende d'esterno, palla sul fondo. Menese. Uno contro uno di Menese, vuole il fondo, lo trova, è pronto a troverso, ne passa e teso. Prego, Burriello, 1-0, di rimpallo. C'è stato il tocco di Adriano, la palla è rimpallata su Burriello che l'ha messa dentro, 1-0. Seda. Cerca Ibra, posizione regolare, e Ibra si divora un gol. Guateng per Ibra, posizione regolare, e Ibra la mette sul fondo ancora. Ora, un'altra occasione. Cercato ancora Adriano, mette fuori Nesta, arriva De Rossi che pensa e tira un volo! E trova la volta De Rossi con una volé splendida. Ibra, la mette giù di destra per Gattuso che non colpisce bene, era un antigno! Se la alza per la girata, spettacolare, ma sul fondo. Seda, cerca la profondità, palla un po' sporcata, arriva qua allo stesso. Poi dentro ancora Ibra, posizione regolare, Ibra, circondato, Ambrosini! Non passa Ambrosini, palla a Goni!